che chiamano generazione Z, questa generazione, appunto la generazione di coloro i quali sono nati già, sono born mobile, diciamo che anche la definizione dei digitali nativi è una definizione che è stata superata dai fatti, perché digitali nativi erano quelli nati nell'era del computer come li aveva definiti Presky nel 2001, oggi sono invece tutti nativi digitali, loro hanno un'applicazione per qualunque cosa, come voi avete ricordato nella scheda, è la tendenza ad isolarsi purtroppo, non si vince solo dalla mia ricerca pubblicata nel terzo capitolo di questo libro, ma è stata confermata anche dall'ultimo rapporto dell'Unicef che è uscito pochi giorni fa ed è stata confermata anche dall'appello lanciato dal Bambin Gesù che nel periodo proprio perché va tra febbraio e dicembre di quest'anno ha visto aumentare al 30% i casi di autolesionismo e i casi di suicidio, quindi di tentato suicidio, quindi capite perfettamente che c'è un'emergenza educativa che è stata acuita dalla situazione dell'emergenza pandemica e da questo uso di nuove tecnologie. Dalla mia ricerca, da un'altra domanda, quante ore stai, molti dichiarano di superare addirittura le 7 ore, senza considerare che anche le ore di studio e le ore di lezione sono fatte anche online, quindi siamo a delle percentuali davvero preoccupanti. Di questo dobbiamo sicuramente parlare perché lo scenario che si presenterà immediatamente dopo la fine dell'emergenza pandemica, quando saremo tutti vaccinati, quando tutti ci potremo togliere le mascherine, è uno scenario diverso rispetto alla vita che stiamo facendo, non soltanto per i figli delle app, ma anche per noi che siamo adulti. Quanto al titolo volevo chiedere una cosa, lei ha avuto direttore un'intuizione felice, nel senso che io quando ho finito di scrivere il libro ho pensato a una canzone, che era una canzone di Alan Sorrenti, che si titolava Figli delle stelle, ed era una canzone straordinaria perché ci proiettava in questo mondo dove ci sentivamo liberi, capaci di fare tutto, con questo cielo stellato sopra di noi ed era proprio questa idea di grandissima libertà. Oggi questa idea si contrappone ad una stanza chiusa un po' al buio con questi nostri ragazzi che stanno davanti al computer, come ha detto anche Fiorello nei giorni di Sanremo, parlando della sua bimba adolescente di 15 anni, che come tanti ragazzi alla sua età stanno troppe ore al computer. Discerno un po' in questo momento, anzi vorrei dividere il mio ruolo di politica in questo momento è entrare nel ruolo di padre dei quattro figli e dico che tutto quello che il professore diceva io lo condivido, ma nello stesso tempo non è facile fare il genitore, non è facile fare il genitore in questo momento specifico, non è facile fare il genitore in un anno di Covid e condivido anche qua con il professore quando, io lo ripeto sempre e da questo punto di vista non siamo d'accordo con mia moglie che mi colpevolizza spesso, per non dire sempre, sul fatto della mia poca presenza nella famiglia, ovviamente per ovvi motivi, ma io dico sempre che secondo me è più importante la qualità del tempo che uno dedica ai figli piuttosto che essere sempre presente e magari essere con il prosciutto davanti agli occhi e non notare quello che fanno i figli. Io penso di avere un ottimo rapporto con i miei figli, penso di cercare di trasmettere dei valori che forse in questo momento loro mi considerano un po' come una persona che la pensa all'antica, d'altro canto mi sforzo per cercare di capire quali possono essere le loro esigenze attuali, io so dire no ai miei figli, so anche accontentarli in quello che è giusto, quindi come in tutte le cose bisogna utilizzare il buon senso, dosare, avere il giusto equilibrio e quindi se questo lo faccio nella famiglia a maggior ragione lo devo trasferire e trasladare in quella che è la mia attività politica.